la data non è stata ancora svelata ma i fiori d'arancio già rimandati una volta sono sempre più vicini forse già in tarda primavera di questo 2024 come anticipato dai diretti interessati sulle pagine di chi cecilia rodriguez prova finalmente l'abito da sposa accanto a il supporto di un grande team va in treno a verona accompagnata dal suo stylist matteo stellini ai follower spiega quel che accade la sua emozione ma poi scoppia a piangere mentre è da atelier e m accento acuto il brand che firmerà il suo vestito il motivo le manca la mamma veronica cozzani che non è lì con lei in queste ore è in volo da buenos aires verso milano la 33 n ignazio moser dovrebbero andare all'altare per pronunciare il fatidico sì il prossimo maggio ceciu si porta avanti è in atelier per la seconda prova dell'abito da sposa bene non vi posso far vedere tanto perché se mi avvicino e mi sposto vi faccio vedere l'abito sono dateli e m accento acuto racconta la rodriguez svela le tante persone che sono nella sala prove insieme a lei dietro si vede anche appeso a una stampella un vestito forse il suo chissà e una giornata da ricordare ma lo sguardo di ceci è purtroppo triste i fan lo notano e le chiedono la causa della grande malinconia che sembra pervaderla in un momento così importante la sorellina di belen lo svela col magone oggi è stata la seconda prova dell'abito non c'era la mia mamma e ho sentito la sua mancanza ma soprattutto nostalgia perché sono giorni che non la vedo e per me veronica cozzani è il mio tutto ma sento sempre più vicino a quel giorno allora nel vedere l'abito come me lo sono sempre immaginato a me ha fatto emozionare chiarisce cecilia non può dire molto sul vestito rivela diciamo che ho avuto le idee molto chiare almeno sull'abito della cerimonia ecco a settembre scorso la ragazza era stata una delle modelle scelte dal famoso marchio per la sfilata in cui veniva presentata la nuova collezione ora lei ha deciso di affidarsi a loro per il look per i suoi fiori d'arancio sicura di avere quel che ha sempre sognato addosso